Ciao a tutti, buongiorno, Luigi, Addresship, mi raccomando, prima di incominciare, come sempre, dateci un like, iscrivetevi al canale, seguiteci su YouTube, se avete delle domande, se avete degli argomenti che vi stuzzicano, che volete che vengano trattati, scrivete anche quelli e vedremo quanto prima di accontentarvi. Oggi sono in un marina, sto facendo due passi, volevo fare due passi con voi e volevo ragionare su una domanda che possiamo porre, molto diretta, molto chiara, molto esplicita. La nautica crea occupazione? E che tipo di occupazione crea? Sì, la domanda è sì, la nautica crea occupazione. Allora, andiamo per ordine, noi siamo in un marina, questo è un marina a Olbia, in un marina ce ne sono tanti, nel nord, nel sud Italia. Quando parliamo di occupazione della nautica, parliamo di due tipi di occupazione, parliamo di un'occupazione diretta, cioè delle persone che lavorano, e dopo vedremo cosa vuol dire, direttamente con le barche, lavorano nei marina, lavorano come broker, lavorano come artigiani, hanno un'occupazione diretta, ma poi parliamo anche di occupazione indiretta, di indotto. Allora, se noi parliamo di occupazione diretta, il discorso è abbastanza semplice, io vendo barche, lo sapete, sono un importatore, ho delle persone che lavorano con me, vediamo imbarcazioni usate, vediamo imbarcazioni nuove, abbiamo a che fare con dei cantieri stranieri, facciamo le fiere, abbiamo una marina, abbiamo degli operai che fanno i lavori, vediamo per i cantieri, vediamo meccanici, vediamo diversi artigiani che fanno di tutto e di più. Faccio un esempio, a Grado c'è da noi in Darsena un tappeziere, prima faceva un altro lavoro, era un calzolaio, dice, da quando poi ho iniziato a fare il tappeziere, il tappeziere nazionale, come è cambiata la vita? Perché sono lavori specializzati, sono lavori che hanno un valore aggiunto molto alto, che hanno chiaramente dei margini più interessanti, comportano quindi maggiore ricchezza. La CNA di Udine ha inventariato qualcosa come 45 mestieri nella filiera della nautica, 45 mestieri, perché stiamo parlando appunto non soltanto di broker, di mediatori, di venditori, chiamateli come volete, ma stiamo parlando di meccanici, stiamo parlando di falegnami, di maestri d'ascia, di rigger, che fanno chiaramente alberare, anche questi merce rigger, alberare da una barca o cambiare le sarti, o fare lavori di questo tipo, di laminatori, di veramente 45 mestieri diversi, inventariati nella filiera della nautica da CNA di Udine. Ma non ci fermiamo qua, questo è fondamentale, perché è chiaro che anche in questa giornata di inverno, prossimo gennaio, stiamo camminando per un marina, vediamo furgoni, furgoni di meccanici, furgoni di velai, furgoni di rigger, furgoni di persone che vengono sulle barche e stanno lavorando a lacramente, stanno lavorando per fare tutte le manutenzioni che sono necessarie. Ma quando dico che questo non basta, perché non basta? Perché in realtà la ricaduta più grande è quella dell'indotto. Cioè un marina, come quello in cui mi trovo, un marina da 500 posti barca, crea un indotto da 7-8 posti di lavoro per posto barca. Com'è possibile, dite? Perché il lavoro non è solo quello che dicevo prima, non è solo l'artigiano, non è solo il meccanico, non è solo il falegname, non è solo il rigger, il velaio, no, 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 il lavoro è dato dai bar che sono aperti, dai ristoranti, dai clienti, gli armatori delle imbarcazioni che vengono e devono fare cambusa per la loro barca e vanno a mangiare il pesce, vanno a mangiare la pizza, vanno a mangiare se siamo in Sardegna il porcedo, se siamo quello che è, indifferente. E questo è un indotto diffuso, un indotto che crea ricchezza. Vi faccio un esempio, a me è capitato tante volte di trovarmi, novembre, dicembre, all'Aprilia Marittima, all'Aprilia Marittima 3.000 posti barca in mezzo ai papaveri, conosciamo bene, sento mio papà a finanziare i primi soldi quando lavoravo in banca per creare la prima marina all'Aprilia Marittima, 3.000 posti barca in mezzo ai papaveri. A novembre faccio friuli, campagna friulana, nebbia da tagliare col coltello, bar aperto e pieno di tedeschi dentro, che stanno facendo colazione. Allora, se non ci fosse quel marina, quel bar non solo non sarebbe aperto, ma neanche non esistirebbe, e quelle due o tre persone che lavorano al banco non avrebbero il lavoro. Questo è l'indotto di cui parlo, è un indotto diffuso, è un indotto dato dal cameriere del ristorante, dalla commessa, del negozio, data dai negozi che chiaramente ieri abbiamo incontrato una persona che fanno un servizio di cambusa per le barche, è un piccolo negozietto a Pantaleo e poi riesce a fornire d'estate durante tutta la stagione quelle che sono tutte le barche. Ne parlavo una volta con il direttore, allora direttore del Marina di Luano, mi diceva, ma sai, ho una vetta qua grossa, ha fatto acquisti, solo di pesto, ho comprato 30.000 Euro. Ma vi rendete conto della ricaduta sul territorio di un Marina che quando ci sono anche barche così importanti che iniziano a spendere 30.000 Euro solo di pesto? E cosa avrà speso di vino? Cosa avrà speso di... Cioè, è una ricaduta enorme. E allora questo fu il danno, d'altra parte, se vogliamo toglierci qualche sassolino, il danno più grosso che fece Monti, no? Quando Monti fece la tassa, introdusse quella tassa di possesso, poi stazionamento, poi possesso, insomma, la tassa sulla nautica, tanti armatori scapparono e non fecero altro che portare la barca o in Croazia o in Grecia o in Francia e alla fine invece che mangiarsi la pizza la sera si sono mangiati la crepe o si sono mangiati i cevapici, ma hanno lasciato tanti soldi sul territorio. Il 65% dei soldi che un armatore lascia vanno sul territorio, il 35% vanno invece in quella prima parte del video in cui vi parlavo del vendite, della ricaduta diretta sul mercato. Quindi, 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 un lavoro, un indotto, un diffuso, una creazione di lavoro molto, molto importante, un'occupazione che… perché questo viene tralasciato, ma adesso non vorrei dire, non voglio entrare in discorsi che non competono a questo canale, ma è chiaro che se io politico salvo un'aziendina o mi do d'affare per un'azienda, un'azienda, un'industrietta, un'industria da, non so, 100 dipendenti o 100 famiglie che mi voteranno o un voto di scambio diretto, se io mi do d'affare per un marina di 500 posti, 78 posti di lavoro per posto barca, vuol dire che creerò un indotto di 3500 posti di lavoro, ma questa è una ricaduta diffusa, per cui quella commessa dietro il bar, che vi descrivevo prima, o il cameriere, o chi che sia, è difficile che si renda conto del fatto che il suo lavoro deriva dal politico che ha dato l'ok per creare quel marina e creare quella ricchezza. Un po' la mentalità adesso sta cambiando, si è capito che il nostro petrolio e il turismo, si è capito che i marina sono importanti, si è capito che si sta creando chiaramente una possibilità di lavoro, di sviluppo del territorio, abbiamo dei marini importanti, vedi la marina d'Orecchia Salerno, vedi qui nella costa Smeralda che c'è un mondo incredibile, guarda giù le olie, quindi Sicilia, Porto Rosa o Capodorlando e via dicendo, tutte zone che alla fine, se tu vai a vedere, si crea lavoro, si crea ricchezza, si creano opportunità. Quindi la domanda iniziale era la nautica crea lavoro? Sì, crea lavoro in maniera diretta, per tutto quello che è chiaramente il giro che dicevo prima, dei broker, dei mediatori, degli artigiani, ricordate 45 mestieri nella filiera della nautica, ma crea soprattutto tanto, tanta occupazione nell'indotto, un'occupazione diffusa, una ricaduta di ricchezza distribuita, diffusa, polverizzata e questo è un valore molto, ma molto importante. Quindi viva le nautica, viva il marina, viva le barche, perché effettivamente hanno ricaduto sul territorio che è normale. Da questo punto di vista, i francesi forse sono quelli più bravi, più bravi, tu vai e trovi marina che sono integrati con le città, trovi ristorantini, trovi la possibilità, è proprio il contrario di quello che hanno fatto ad esempio ad Ancona, quando tu vai ad Ancona ti viene sempre un magone perché hanno fatto un marina splendido, come marina d'orica in zona industriale e poi vai in centro e trovi che cosa? Trovi le navi. Avessero fatto il marina in centro alla città, la città avrebbe avuto tutta un'altra storia, tutto un altro indotto, tutto un altro sviluppo turistico, ma questo è uno dei tanti esempi che possiamo fare sul territorio. La cosa importante che voglio, il concetto che voglio che qui passi e che sia chiaramente ben chiaro è che la nautica crea occupazione, che l'indotto che crea è veramente importante ed è una cosa alla quale non vogliamo rinunciare e dobbiamo continuare a crescere perché i 30 mila Euro della cambusa, del pesto, della navetta sono uno degli esempi più eclatanti, ma che fanno pandan, direbbero quelli bravi, che si vanno a combinare con, vi faccio un altro esempio, molto per farvi sempre capire, quando io ero ragazzo avevamo una barca a Lignano ed era normale che magari d'inverno mio papà dicesse dobbiamo andare giù a Lignano perché la barca va aperta, va messa in moto, poi magari se c'erano le condizioni per fare un geretto si faceva un geretto se no si lasciava arieggiare e girare il motore, poi era normale che la sera venessi detto beh ma dai visto che siamo qua mangiamo qualcosa fuori e poi andiamo a casa e quel mangiare qualcosa fuori è quella ricchezza che viene distribuita sul territorio grazie alla nautica che porta a far sì che quella pizzeria, che quel ristorante, che quella gelateria, che quel bar siano aperti, che quelle persone che sono arrivate nel marino lasciano dei soldi per essere molto terra a terra sul territorio che creino quindi questa ricchezza diffusa e questo indotto. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi vi hai fatto capire quanto la nautica crea un indotto, quanti marina sono importanti, quanta ricchezza venga appunto distribuita perché poi abbiamo clienti di tutta Europa che vengono nel nostro bel paese che vogliono lasciare la barca qua che arrivano in aereo e che poi spendono qua e questo è fondamentale per la nostra crescita economica e turistica. Dateci un like, seguiteci sempre sul canale se avete domande postatele. Ciao!